Ciao a tutti, siete venuti sul nostro canale di notizie. Non dimenticate di abbonarci e condividere per supportare il canale. Ui di Lavinia e Alessio, progetti di matrimonio e famiglia secondo Corvino. La coppia di uomini e donne sembra essere pronta per il prossimo passo. Ma cosa ne pensa l'ex corteggiatore? In un'intervista recente per il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, Alessio Corvino condivide i dettagli della sua relazione con Lavinia Mauro. Come procede la loro storia d'amore nata nel celebre dating show di Canale 5? Secondo Corvino, molto bene. Tuttavia, ammette di essere un po' esausto a causa del ritmo frenetico del suo lavoro. La relazione tra Alessio e Lavinia sembra progredire positivamente. E la coppia, una delle più amate degli ultimi anni nel trono classico, è spesso fermata per strada dai fan desiderosi di scattare foto con loro. Nonostante i complimenti ricevuti dai sostenitori, non c'è gelosia tra i due. Corvino rivela che, lontano dai riflettori, Lavinia è una persona che desidera tutto immediatamente. Se chiede aiuto o consiglio, vuole attenzione immediata, ma Corvino sottolinea che lei è consapevole di questo aspetto punto quando gli chiedono se vizi Lavinia. Alessio risponde scherzosamente di sì, spiegando che preferisce definirlo dare attenzioni e dimostrazioni di affetto che rendano felice la persona con cui stai. Descrive gesti come regali sorprendenti e viaggi, oltre a essere presente quando lei ha bisogno di supporto. Sottolinea che vuole semplicemente farla stare bene punto, considerando che molte coppie di uomini e donne hanno celebrato matrimoni e costruito famiglie. I fan si chiedono se Lavinia e Alessio seguiranno lo stesso percorso. Attualmente, la coppia non ha ancora deciso di convivere, ma matrimoni e figli sono argomenti di cui parlano. Corvino rassicura che al momento stanno vivendo il momento presente e concentrati su altre priorità, come la realizzazione professionale, punto per quanto riguarda la possibilità di avere figli. Corvino ammette che Lavinia è portata per i bambini, ma al momento vogliono godersi la loro storia senza mettere fretta a questi passaggi importanti. Alessio sottolinea che sono giovani e stanno cercando di realizzarsi nel lavoro prima di prendere decisioni cruciali. Corvino parla anche della sua relazione con i genitori di Lavinia, descrivendo un iniziale interrogatorio da parte del padre di lei. Tuttavia, questi incontri successivi hanno rafforzato il legame e Alessio condivide con il padre di Lavinia valori simili. Essendo entrambi uomini del sud, infine, Alessio si sofferma sulla sua opinione su un ex partecipante di uomini e donne, Michele Longobardi, sottolineando la sua simpatia e ironia. Condivide che si rivede i Longobardi, non solo perché entrambi hanno ricoperto il ruolo di corteggiatori, ma anche per la loro origine campana comune. Ued. Alessio-Claudia L. Ex. La controversia e la saggezza di Maria De Filippi. Nell'ultima puntata di Uomini e donne del 17 novembre 2023, si è affrontato il caso del triangolo amoroso tra Alessio, Claudia e l'ex fidanzato Marco. Con Maria De Filippi che ha risposto alle polemiche nate in studio.Claudia Lenti ha condiviso l'incontro inaspettato con Marco, suo ex fidanzato, il quale ha contattato la redazione per partecipare al programma. Maria De Filippi ha chiarito che Marco ha preso questa decisione molto tempo prima dell'incontro casuale tra Alessio Pili-Stella. Claudia e Marco sul campo di Padel. L'annuncio dell'arrivo dell'ex di Claudia ha scatenato una polemica, soprattutto a causa della reazione di Maria, che ha definito la partecipazione di Marco una pagliacciata. Tuttavia, Maria ha sottolineato che la redazione ha interpretato l'atteggiamento di Marco in buona fede punto quando Marco è arrivato in studio. Claudia ha cercato di capire il motivo della sua partecipazione, ma le sue spiegazioni non hanno convinto nessuno. Alessio e Tina hanno replicato alle parole di Marco, esprimendo scetticismo sulla sua sincerità.Tina Cipollari ha definito l'arrivo dell'ex di Claudia una pagliacciata, un pensiero condiviso da molti telespettatori. Maria De Filippi ha difeso la redazione, suggerendo che Marco avrebbe potuto sedersi nel pubblico e conoscere altre dame se il suo obiettivo fosse stato solo giocare punto Claudia. Però, sembra perplessa sulla situazione e fa notare a Marco che sta frequentando Alessio. Maria ha rivelato che Marco, in precedenza, aveva dichiarato di voler esplorare i suoi sentimenti per Claudia ballando e uscendo con lei. Tina crede che i due ex si siano accordati. Ma Maria pensa che Marco avrebbe potuto sedersi nel parter senza creare polemiche punto Alessio ha avanzato l'ipotesi che Marco sia venuto per facilitare il suo lavoro. Ma Claudia ha smentito questa teoria. Claudia ha deciso di chiudere immediatamente la porta a Marco, ringraziandolo per il gesto ma dichiarando che la loro storia è conclusa punto Marco ha deciso quindi di lasciare Uedì. Affermando che se ci si sente indesiderati, è meglio andarsene. Alessio, però, sembra non apprezzare il gesto di Claudia e non è sicuro se vuole continuare la conoscenza. Maria ha cercato di far riflettere Alessio. Sottolineando che Claudia fa parte del programma e che la presenza di Marco avrebbe potuto confermare la loro relazione punto Claudia ha rivelato dettagli sulla rottura con Marco. Dicendo che lui le aveva chiesto di sposarlo, ma lei aveva sospetti confermati successivamente. Alessio ha fatto notare che Claudia tiene ancora l'anello di fidanzamento di Marco in casa, suggerendo che avrebbe potuto restituirlo. Maria ha cercato di far riflettere Alessio sulla situazione punto Barbara De Santi ha poi fatto una proposta a Marco Viola dopo una sfilata. Ma la sua decisione di accettare o meno ha generato polemiche. In conclusione, Maria De Filippi ha offerto una prospettiva saggia sulla controversia, cercando di mediare tra le parti coinvolte nel triangolo amoroso. Grazie per aver guardato l'intero video. Per favore, iscriviti e condividi per supportare il nostro canale e produrre video migliori. Grazie e ci vediamo di nuovo.